Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio Pallotti e sono il senior traduttore all'Istituto L'Amazon Kappa e svolgo anche le funzioni di traduttore ufficiale in italiano per Sostantità e Dalai Lama. Ora, visto il successo dell'edizione precedente, nei prossimi mesi condurrò una serie di incontri organizzato dall'Istituto L'Amazon Kappa che si terrà qui all'Istituto L'Amazon Kappa dal titolo L'educazione del pensiero e l'igiene emotiva. Ora, il contenuto di questi incontri è lo studio e la pratica del buddismo nel XXI secolo e sono grandemente ispirati dalle spiegazioni estremamente innovative riguardo al buddismo di Sostantità, il Dalai Lama. Proprio come dice Sostantità il Dalai Lama, il buddismo nella sua integrità si è sviluppato, è stato propagato da quella che è l'antica Università del Nalanda in India ed è pervenuto a noi grazie alla tradizione tibetana. Per cui proprio come ci insegna il nostro maestro che è Sostantità il Dalai Lama, tutti noi, tutti gli esseri siamo uguali nel voler essere felici e non voler soffrire, mai. Questo è l'istinto primordiale, fondamentale che è inerente alla vita. Per cui in tutto quello che facciamo cerchiamo di essere felici e di non voler soffrire, sia che lo facciamo consciamente sia inconsciamente. E dal momento che queste cose hanno a che vedere con l'esperienza, l'esperienza ha a che vedere con la mente, con gli stati mentali, gli stati cognitivi, ecco il bisogno dell'educazione del pensiero e dell'igiene emotiva. Quindi i differenti stati d'animo che abbiamo durante la nostra giornata, che formano tutto il percorso della nostra vita, sia nelle relazioni interpersonali che con gli altri, nel nostro ambiente di lavoro, con noi stessi quando siamo da soli, tutti questi stati di animo, di felicità o di sofferenza, di soddisfazione o insoddisfazione dipendono esclusivamente da un modo di pensare, da diversi modi di pensare. Allora, in questa serie di appuntamenti alterneremo lo studio, lo studio dei soggetti che tratteremo, che riguardano principalmente i soggetti trattati dai grandi trattati dei maestri indiani che vengono dalla tradizione d'Alanda, per cui principalmente Nagarjuna con i suoi figli spirituali, Buddha Palita, Chandrakirti e gli altri grandi maestri di questa tradizione e tratteremo i soggetti che abbiamo in generale trattato anche nei nostri primi incontri, ma con più approfondimento, per cui i soggetti che riguardano i quattro capitoli essenziali del fondamento della saggezza, come indica la sua santità il Dalai Lama, e tutti i vari commentari che ne seguono e gli annessi e connessi con quello che è la teoria e la pratica dello sviluppo mentale nella tradizione buddista. In questi incontri alterneremo spiegazioni, video che riguardano le spiegazioni di sua santità il Dalai Lama, che riguardano le spiegazioni specifiche che approfondiremo insieme, meditazioni guidate e momenti di dibattito, di domande e di risposte e di condivisione. Ecco, questo molto in generale, naturalmente l'argomento è vastissimo, questo vuole essere solo un messaggio con un auspicio di incontrarvi tutti, di essere insieme a percorrere questo sentiero. Parallelo a questo, alternato a questo corso di eventi, farò anche uno studio approfondito del Lambrincemmo, quello che è il sentiero graduale verso l'illuminazione, ma la grande esposizione, che complementa perfettamente questo studio che principalmente si basa sui maestri indiani. Bene, grazie per avermi sentito e buone feste e vi diamoci presto. Ciao!